Terry Seventies, Angelica Houston è l'eroina di questa collezione, quella che ha ispirato tutto il mio lavoro questa stagione. Colori il nero fa da padrone con il bianco, è molto grafico e c'è un po' di color carne e tutta una tonalità di bruciati fino ad arrivare a un ruggine, un cotto. La collezione è molto bella, molto classica, la disperazione è un po' di corte, in la face, la disperazione è un po' di trash trend, è molto bello e per me è bello per la collezione, per lo che sono molto bello. I will show you my outfits. This is the first outfit I'll be wearing. As you can see, it's really, really beautiful and just slightly revealing, but I'm okay with that because it's totally worth it. It's really, really gorgeous. It goes with a white belt and a white bag, as you can see, really pretty and of course white shoes, obviously. The second outfit I'll be showing tonight is this also gorgeous dress and what is really interesting about it, what I found out yesterday, that actually what you see on the front, right over here, at first I didn't recognize what it is, but it turned out that it's a shot, it's a picture of a crystal vase, it's crystals. It looks really awesome and if you look closely, you can, you can, can you see the pattern, but otherwise it just looks amazing.